Alessà, c'è una foto sull'iPhone modificabile. Te la invio per email se ti piace. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Aspetta un'altra cosa. Riusci a scrivere che combatte uno dei 5 non è squadra dei 73. Tengo Basile o Davide come primo piano. Guarda. Adesso stanno sul Facebook. Questa è la sua parte. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!